Allora, il naufrago che deve abbandonare definitivamente l'isola dei famosi e tornare in Italia è... Lori del Santo! Pamela, complimenti la tua avventura su Playa, è bellissima, continua, in solitaria, Lori! Lori, mi dispiace! Ti aspettiamo qui in studio a Milano! Grazie di tutto, Lori! Assolutamente arriverò! Un bacio a tutti, è stato un piacere fare questa isola speciale! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!